Siamo molto lieti di accogliere questo evento, siamo archeologi, quindi siamo particolarmente interessati a questo campo di ricerca. Un campo di ricerca che si inquadra nelle molte collaborazioni interdisciplinari che si stanno sempre di più affermando nel settore dell'archeologia militante. Pensare che soltanto pochi decenni fa chi pensava a una ricerca sul campo di bioarcheologia, di pariopatologia, sembrava una cosa di benissimo. Pensare che ora ci fermiamo dei giovani colleghi che sapranno come intervenire sul territorio, come sapranno intervenire sullo scavo, nell'ambito dello studio delle necropoli, dello scavo e della concentrazione delle necropoli, sicuramente ci fa grande piacere. Il centro biologico nazionale è sempre aperto alle buone idee che vengono dal territorio. Siamo una casa comune, quindi accogliamo con molto piacere l'evento di oggi e siamo a disposizione per tutto ciò in cui potremo collaborare. Grazie.